Ciao e benvenuto. Voglio parlarti della felicità. Tutti vogliono essere felici, ma non tutti sono felici. Sai, potrei riportarti dall'uomo che mi ha dato questo libro, Ray Stanford. Ero un individuo molto infelice. Ero un'anima triste, credimi. E ricordo che un giorno disse, Proctor, dovrai cambiare. Ha detto, ti piacerebbe essere felice? Beh, pensavo che fosse qualcosa che succedeva ad alcune persone, ma tu non ne avevi il controllo. Non sapevo che avrei potuto controllare la mia felicità. Non lo sapevo. E ti dirò una cosa. Ci sono un sacco di persone che non lo sanno. Altrimenti non troveresti così tante persone piuttosto tristi. Mi disse, ti dirò un segreto, Proctor. E disse, se lo capisci, puoi trarne beneficio fino a quando sarai molto vecchio. Disse, hai il controllo della tua felicità. Ora, ha detto, ti dirò perché non sei felice. C'è un potere o un'energia di pensiero che scorre nella tua coscienza. E sai cosa fai? Imbottigli tutto dentro. Tutta la tua energia è focalizzata su di te. Sei l'unica cosa a cui pensi. Povero me, voglio avere un po' di soldi. Voglio, voglio, voglio. Ma i tuoi pensieri riguardano sempre te stesso. Se trovi qualcun altro da aiutare, se puoi aiutare qualcuno, e te lo dirò, ci sono un sacco di persone là fuori che vogliono aiuto, se ti concentrerai sull'aiutare altre persone, diventerai un uomo felice. Ora, non penso di averlo capito subito. Ma lui sapeva che probabilmente non l'avrei capito subito. E così, ogni volta che lo vedevo, chiedeva, chi hai aiutato? Ma, non lo so. Non stavo aiutando nessuno. Stavo cercando di capire come ottenere dei soldi, come aiutare me stesso. Voglio che ci pensi un attimo. Ci sono così tante persone che hanno bisogno di aiuto. Il capitolo 14 della scienza del diventare ricchi è un concetto potente. Lascia a tutti l'impressione di crescere. Se lo fai, stai aiutando le persone. Cosa fai? Come lo fai? Non lo so. Complimentali. Complimentali per qualcosa che stanno facendo o qualcosa che indossano. C'è sempre un motivo per complimentare. Fa in modo che si sentano bene con se stessi. Nota qualcosa. Aiuta le persone. Se hai l'abitudine di aiutare altre persone, tieni gli occhi aperti. Tutti vogliono aiuto. Tutti hanno bisogno di aiuto. Tutti. Non solo sarai felice. Attirerai molte persone per aiutarti. Felicità. La felicità si trova sempre nella persona che si sta concentrando sull'aiutare altre persone. È un semplice segreto. L'ho imparato molto tempo fa. Passo tutto il mio tempo ogni giorno aiutando altre persone. Questo è quello che faccio. Sono un uomo piuttosto felice. Vivo una vita piuttosto interessante. E questo è tutto ciò che faccio. Solo cercando di capire come aiutare qualcun altro. Provalo. Ti piacerà.